Buonasera da Roma, come vedete alle mie spalle siamo all'aeroporto di Ciampino, tra qualche minuto voleremo anche noi alla volta di Cagliari dove invece è già atterrata nel primo pomeriggio la squadra bianco-verde. Squadra bianco-verde che Bucaro ha portato in Sardegna senza Dondoni, non convocato perché non al meglio, ma anche con due dubbi sostanziali di formazione. Uno in mediana di Paolo Antonio e Gerbaudo, si giocano una maglia da titolare, poi il solito dubbio in attacco tra Sforzini e Devena con il secondo, nuovamente favorito su Ferdinando Sforzini. Per il resto 4-4-2 annunciato, quasi speculare a quello del Castiadas che dovrebbe essere privo del suo uomo migliore, per il resto Viscovo tra i pali, Betti, Morero, Dionisi e Parisi in difesa, Tribuzzi di Paolo Antonio e Gerbaudo come detto al fianco di Matute con Dadalt sulla corsia di sinistra, attacco Alphageme e uno tra Sforzini e Devena. Per adesso da Roma è tutto, vi ricordo che domani la diretta è alle 14.15 circa, su Sport Channel, il Pina TV e per chi ci segue sul web, sul canale YouTube di User TV, al seguito dei bianco-verdi, quasi 70 tifosi. Per adesso da Roma è tutto, vi restituisco la linea.